Prince Charles ha mostrato il suo sostegno alla squadra di calcio inglese dopo aver effettuato un importante intervento dei tre leoni in vista della partita crunch di oggi. La squadra inglese si sta preparando per affrontare la Danimarca per la cruciale semifinale di Euro 2020 questa sera. I tifosi sono rimasti sbalorditi dopo che la squadra ha sconfitto l'Ucraina sabato con una vittoria senza sforzo per 4-0. Ora anche il futuro re si sta immergendo nello spirito del torneo in vista dell'attesissima partita delle 20.00. Charles ha invitato la band of the Coldstream Guards a suonare una versione strumentale della classica canzone dei tre leoni nella sua casa londinese di Clarence House. La canzone è famosa per il suo famoso testo It's Coming Home ed è diventata sinonimo della squadra di calcio inglese dopo essere stata scritta dai comici David Beddile e Frank Skinner con i Lightning Seeds nel 1996. Il principe di Galles ha anche richiesto Sweet Caroline. Il successo del 1969 del cantautore americano Neil Diamond. Dopo che i fan lo hanno sentito cantare a squarciagola dopo la vittoria della Germania. Punto punto. I soldati indossavano tuniche rosso vivo e cappelli di pelle d'orso mentre suonavano le canzoni ieri. Rimasero anche al sole presso le rede della casa londinese del trono. Mentre strombazzavano le canzoni sui loro ottoni. Tuttavia, Charles non era lì a guardare poiché è attualmente in Galles con sua moglie Camilla, la duchessa di Cornovaglia, per un tour reale di una settimana. È interessante notare che il Galles è stato eliminato dagli europei dalla Danimarca negli ottavi di finale. Una fonte reale ha detto prima della partita dell'Inghilterra. Entrambe le loro altezze reali seguiranno da vicino l'esito. Anche il figlio maggiore di Charles, il principe William, presidente della FAE e sostenitore dell'Aston Villa, sarà alla partita di Wembley questa sera. È stato fotografato con la moglie Kate, la duchessa di Cambridge, allo stadio di Wembley quando l'Inghilterra ha vinto contro la Germania la scorsa settimana. A loro si è unito anche il figlio maggiore, il principe George. Che è stato visto indossare un abito e una cravatta simili a quelli di suo padre. Ma Kate non si unirà a William oggi poiché è attualmente in autoisolamento dopo essere entrata in contatto con qualcuno con Covid.